Hey boys, oggi nuovo video ma in primis volevo augurarvi buon 2022 a tutti ragazzi, buone feste e benvenuti nell'anno nuovo. Il 2021 personalmente è stato molto difficile ma sono certo che il 2022, grazie a tutto il nostro impegno appunto del 2021, andrà molto meglio. Tra l'altro ho tante novità in serbo per voi ragazzi in questo nuovo anno, quindi mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanellina altrimenti perderete tutti i prossimi video che arriveranno. La sfida di oggi l'avete letta dal titolo, se trovo Spider-Man il video finisce. Siamo tutti in hype ancora con Spider-Man grazie al nuovo film, quindi direi che sia il caso di cercare questa skin. Andiamo. Solo una cosa prima di iniziare ragazzi, vi ricordo di inserire all'interno dell'idem shop il codice creatore Fortu così come vedete a schermo, accettate. E da ora ogni acquisto che farete mi farà ricevere una piccola percentuale e soprattutto diventerete anche più fighi. Parola di Fortu the Gamer. Insomma, quale luogo migliore per evitare Spider-Man se non proprio il Daily Bugle? Forse non è stata una grande idea, però non ci interessa questa cosa, cerchiamo velocemente di prendere... Oddio, sento una mega cesta, aspettate, aspettate, aspettate. Non ho idea di dove siano le ceste Daily Bugle, quindi mi accontenterò di sfondare in maniera completamente casuale. Va bene. Eh, ecco, grazie. Allora, vediamo un attimo. Sfondati! Buono, buono, buono. Almeno ci possiamo scildare al massimo queste cose, io le leverei. Strano che il Daily Bugle però non ci sia nessuno. C'è una zona molto gettonata. Pieno di ragnatele, no? Ma no, qualcuno c'è. Sì, se c'è qualcuno. Permesso? Oh! Mi è andata male? Beh, vabbè, bro, non fa nulla, non fa nulla, dai. Dai, va meglio la prossima. A parte che a me servirebbe un assalto però, eh. Cioè, me dovrei lavare un po' di cose per prendermene almeno uno. Che a distanza praticamente non posso faitare. Mega change tattico e ci prendiamo l'assalto, credo convenga. Un'altra pozza grande, peccato. Bella, bella, grazie che è Natale. Grazie mille che è Natale. Bella per te, brother. Questa stagione di Fortnite, ragazzi, a tema Natale l'ho giocata veramente pochissimo. Ed è un gran peccato perché io ho sempre amato Fortnite a Natale. Sono tre anni che io per tradizione nerdo sempre. Però quest'anno ho avuto troppe impegni e non sono riuscito. Però almeno mi cotrò un paio di sfide con voi, che dire. Sparaflesciami tutto, mamma mia, com'è bello il movement. Sento robe e sento spari. Quindi mi sa che conviene un attimo, esatto, darsi una mossa. Che bel movement che mi dà. Attenzione se stanno a sparaflesciare di pronte. No, ma dovrebbero stare tipo qua. È un bot? No, sì, credo fosse un bot. Solo che io ora ho i lupi a presso. No, no, questa cosa non doveva andare così. Arrivederci, ragazzuoli. Questi mi inseguono se mi fermo qua. Quindi direi di andare un po' avanti. E GG per loro, insomma. Oh, attenzione, un paio di cesta. Cioè, raga, ma hanno inseguito davvero... Ma questi sono pazzi così. Oh. Mio Dio, che credo mi abbiano inseguito per 200 metri. Sta un tizio là. Solo che non credo di riuscire a prenderlo. Posso provare, raga, ma... Mi è andata malissimo. Non so se è sicura. Mamma mia, come mi è andata bene. Subito, chiudi. Via, ragazzi, via. Assolutamente via. Mi stanno inseguendo con le ragne delle anche loro. Non credo convenga fermarsi. Cercherò le cure da qualche altra parte. C'è un tizio, non ci posso credere. Che sfortuna! Quando faccio game così all'Aki è veramente uno strazio. Scappa, giro! Per... Non fai... Vabbè, 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 vabbè. Vai! Ok, sono salvo, credo. Per il momento. Se continuo a swingare ad andarmene, dovrei essere salvo. Questo che cos'è? Un falo al volo. Me lo farei subito. È un pacco regalo. Vai. Paccami tutto. Ok. Ora va molto meglio. Che stanno feitando. Cavolo, non pensavo ci fosse una finestra qui. E un tizio là. Continua a non essere Spider-Man ed è un bot, tipo. Eh, credo di sì. Eh, vabbè. Cosa è stato? Cioè, cosa è successo? Non l'ho ben capito. Mi hai sfracellato, GG. A questo punto la cosa difficile non diventa evitare di trovare Spider-Man, ma diventa vincere una partita. Insomma, diciamo che ci stiamo allenando un po' per il meme, perché è una zona piena di gente. E... Pistola, arma più forte del gioco. Mia. Godo. Ti seguo. Ti traiardo tutto. Ti traiardo tutto. Ho sbagliato. Non era sceso qui. Me ne farò una ragione. Roba utile. No, niente. Non sia mai. Non sia mai. Ok. Vitraglietta. Fucile a pompa. Blocca. Fammi cambiare un'arma decente, grazie. Mettiamo un po' di ordine in questo inventario, che così mi dà troppo fastidio. Andiamo. Ok, un altro a terra. A posto. Facciamo cambio con questo e andiamo. Per ora nessuno Spider-Man. Buona notizia. Ci stiamo anche tenendo qualche fight decente, per il momento. Sono rimborsato. Non soddisfatto. Sono rimborsato. Certe volte io risento le mie battute in editing e faccio, mamma mia. Ma ho veramente detto una cosa del genere? Mi hanno pure messo una taglia a presso. Ottimo. Devevo essere sincero, la situazione sta migliorando. Oh, pozza grande è lì. Subito, mia. Deve diventare mia immediatamente. Vorrei se ci sgamano. Che ce frega. Tanto, tanto sono troppo forte. 21-21, white. Peccato. E se facessi una cosa un po' sass, tipo così? Suonerebbe? Boh. Vediamo se mi fa la kill. Eh, vabbè. Ma sì. Ma per il meme. 92 metri di granata. Cioè, proprio così. Capito? Vedo troppe cose muoversi. Non capisco se è gente oppure no. Ma sinceramente non credo lì ci sia un tizio. Perché me ne sarei già accorto. Quindi, boh. Andiamo. Tizio. Invece sì. Invece sì. Invece sì. Invece sì. Dai, dai, dai. Che cavolo. No! Sì, ma guardate io poi dove cado. Io non ci posso credere. Ok, pochi materiali, eh. Non scherziamo troppo questo tipo. Ok, un po' di tracking. Mi è andata bene. Va bene. Sto giocando un po' troppo con il fuoco per i miei gusti. Dovrei evitare i fight. Perché già con 4 kill, 33 rimasti. La vittoria. Se me sto fermo e cionco per i fatti miei me la porto a casa. C'è qualcuno sopra? Puoi darmi qualcosa tu, tizio? Bende. Va bene. Potevi evitare comunque. Cominciamoci a dirigere al centro della safe. Restiamo là, dai. Attenzione, Spider-Man. Cioè, meglio, qualcuno che sta utilizzando le ragnatelle di Spider-Man. Ignoriamolo, dai. Tanto se lo fightiamo lui se ne va via. La mia taglia non mi ha raggiunto. Quindi va bene. Ok, sopravvissuto alla taglia, intanto. Tanto che spara in quella direzione, anche se credo che sia lontana. Probabilmente in città. Vedo qualcuno che sta swingando lì. Quello fight a 100. Proviamo a raggiungerli. Attenzione, tengo un altro pure alle spalle con le ragnatelle. Mamma mia, là si sta facendo un epicentro. Secondo me è ingestibile. Oddio. Attenzione, raga. Cavolo, ma sto inizio neanche lo riesco a vedere. Ma stai calmo. Vabbè, però è scarso, secondo me. Non capisco se è forte o è scarso. Su solo che mi sta facendo sparare dal suo compa... Ma... Oddio, no! È SPIDER!